Bene, eccoci a un altro piccolo incontro dedicato questa volta alla quarta n e come vi avevo promesso proseguo nello svolgimento di un ripasso dell'ultimo argomento svolto abbiamo visto il calcolo combinatorio, l'ultima lezione e quindi oggi andremo a vedere qualche cosa, un ripasso veloce della teoria della probabilità chiaramente in 20 minuti non entrerò in nessun dettaglio come abbiamo fatto in classe cercherò di rivedere gli aspetti importanti e fondamentali e se manca qualcosa poi eventualmente integreremo successivamente e mi farete anche sapere se avete domande o difficoltà su parti specifiche del programma quindi la probabilità partiamo dalla definizione abbiamo fatto in classe un po' una discussione sui vari modelli, le varie definizioni di probabilità ce ne sono diverse in particolare se vi ricordate abbiamo visto una definizione di tipo frequentistico che riguardava essenzialmente il numero di casi con cui occorre un certo fenomeno diviso il numero totale di tentativi e abbiamo discusso l'aspetto importante e anche le difficoltà pratiche di una definizione frequentistica e abbiamo visto anche una definizione invece più teorica che è essenzialmente che lega la probabilità al numero di casi favorevoli di un certo fenomeno diviso il numero di casi totali dove casi favorevoli e casi totali dipende chiaramente dall'universo dell'esperimento dell'esperienza che stiamo seguendo per esempio supponiamo di considerare il lancio di un dado classico esempio l'insieme universo di tutti i possibili esiti di un lancio di un dado in questo caso è composto da sei elementi quindi il numero di casi totali in questo caso è sei e per esempio se ci chiediamo la probabilità che esca uno abbiamo un unico caso possibile favorevole all'uscita di uno diviso il numero di casi totali quindi un sesto la probabilità che esca un numero pari è in questo caso due, quattro, sei sono tre possibili casi favorevoli su sei quindi un mezzo e così via quindi la definizione teorica di probabilità come numero di casi favorevoli su numero di casi totali è chiaramente la più semplice quando si conosca la struttura dell'insieme universo che rappresenta il nostro il nostro esperimento l'evento che stiamo cercando ovviamente abbiamo già discusso che questa probabilità è teorica quindi non è che se io lancio il dado sei volte una volta uscirà il numero uno o una volta su due uscirà il numero pari l'interpretazione della probabilità teorica va fatta su grandi numeri e ricade in particolare, secondo alcuni teoremi che abbiamo accennato nel discorso frequentistico cioè quando costruisco un esperimento ripetendo l'esperimento molte volte dove questo molte dipende un pochettino dal contesto allora la probabilità teorica tende in teoria alla frequenza di uscita del particolare valore per cui se io lanciassi il dado effettivamente cento, mille, dici, mila, un milione di volte il numero di volte che esce uno diviso il numero di volte totali dei lanci dovrebbe approssimare sempre meglio il valore teorico di un sesto noi lavoriamo chiaramente sempre su questa definizione di probabilità da qui abbiamo fatto molti esercizi ed è il motivo per cui il calcolo combinatorio è stato piuttosto come dire propedeutico alla probabilità perché il numero di casi favorevoli spesso si ottiene a seconda del tipo di problema proprio da un calcolo combinatorio e anche il numero di casi totali a seconda dell'esercizio per esempio il lancio di due dadi l'estrazione di particolari sequenze di carte da un mazzo di carte piuttosto che altri tipi di esercizi che abbiamo visto in classe più in generale dando un po' una nomenclatura alla probabilità chiameremo quindi evento è un sotto insieme dell'insieme universo dove l'insieme universo è l'insieme di tutti i possibili outcome di tutte le possibili risultati della mia esperienza quindi nel caso del lancio del dado ho scritto dato qua ma era dado nel caso del lancio di un dado abbiamo detto che questo è l'universo l'insieme universo di tutti i possibili lanci un evento è quindi un sotto insieme quindi per esempio l'evento 1 è il sotto insieme che contiene solo l'evento 1 l'evento pari contiene 2, 4, 6 e così via si può chiaramente generalizzare generalmente una probabilità assegna quindi a un particolare evento un numero compreso tra 0 e 1 abbiamo due casi particolari se la probabilità dell'evento è 0 si dirà impossibile e se la probabilità di un certo evento invece è 1 si dirà evento certo in più abbiamo visto il vincolo di normalizzazione la probabilità del sotto insieme S che coincide con tutto l'universo deve essere uguale a 1 che è come dire la probabilità che l'evento appartenga all'insieme universo deve essere 1 per definizione di insieme universo in particolare abbiamo visto poi come si compongono in alcuni modi gli eventi tra di loro per esempio se ho due eventi è 1 ed è 2 la quinta sezione è l'insieme nullo in questo caso due eventi si dicono incompatibili per esempio l'evento in un lancio di un dado esce il numero 1 e l'evento esce un numero pari sono incompatibili in quanto non ci sono intersezioni tra questi due sotto insieme allora in questo caso per eventi incompatibili abbiamo visto che la probabilità che avvengano o uno o l'altro quindi e1 o e2 dove questo è lo non lo XOR quindi non è lo esclusivo o uno o l'altro o entrambi ma in questo caso abbiamo visto che non è possibile abbiamo anche la probabilità di e1 più la probabilità di e2 quindi se è impossibile che avvengano entrambi la probabilità che avvenga o uno o l'altro è semplicemente la somma se gli eventi non sono incompatibili si può generare questa proprietà delle probabilità dicendo che la probabilità che avvenga o uno o due è la probabilità che avvenga o uno più la probabilità che avvenga e2 meno la probabilità dell'intersezione e abbiamo anche in questo caso svolto molti esercizi su questa formula generalizzata qui scrivo O ma essendo questa l'intersezione è chiaro che questo diventa l'unione cioè la probabilità che l'evento 1 o l'evento 2 avvengano la si potrebbe vedere come l'unione di e1 e 2 nel senso insiemistico ma insomma senza formalizzarci questo è il senso quindi questo è il significato di eventi incompatibili mentre diremo che due eventi sono indipendenti diremo che e1 è indipendente da e2 e viceversa quindi l'indipendenza è riflessiva e scusatemi, è simmetrica e1 è indipendente da e2 e2 è indipendente da e1 se la probabilità che avvenga l'evento 1 è indipendente dalla probabilità che avvenga l'evento 2 per esempio immaginiamo il lancio di due dadi la probabilità che esca 1 nel primo lancio e la probabilità che esca 1 nel secondo lancio sono indipendenti in quanto l'outcome del primo lancio non può influenzare l'uscita del secondo lancio stessa cosa per esempio per un lancio di una moneta vi ricordate abbiamo descritto il lancio di una moneta testa o croce ogni lancio di una moneta anche se ripetuto molte volte è indipendente dai lanci precedenti e quindi se lanciassi una moneta ottenendo per cento volte testa paradossalmente non è che la probabilità di ottenere croce aumenta man mano che esce la testa rimane del 50% e questo è un punto molto importante della probabilità abbiamo visto che se due eventi sono indipendenti la probabilità che avvengono entrambi quindi e1 e anche il secondo evento e2 è uguale al prodotto delle probabilità quindi sono due concetti diversi incompatibili e indipendenti abbiamo visto in classe che uno strumento molto utile per rappresentare probabilità e lavorare su eventi incompatibili eventi indipendenti è quello è il metodo diciamo legato all'uso di un albero quindi abbiamo costruito in classe se vi ricordate un punto su cui ho molto insistito l'albero di probabilità e l'idea è abbastanza semplice supponiamo di avere diciamo un certo esperimento per esempio il lancio del dado e immaginiamo cosa succede se io lancio il dado possono uscire per esempio in questo caso sei possibili valori questo è il primo diciamo il primo livello dell'albero in cui ho ogni ramo rappresenta una possibile uscita del primo evento e posso assegnare una probabilità la probabilità è un numero che assegno ai rami quindi in questo caso per esempio sarebbe un sesto per ciascuno di questi rami in modo tale che la somma faccia sempre uno la somma lungo i rami faccia sempre uno supponiamo che io lanci un secondo dado e i due lanci siano indipendenti e quindi chiaramente avrò un secondo livello dell'albero in cui per ciascuno di questi outcome del primo evento avrò uno qualunque degli outcome anche del secondo evento per cui diventa difficile disegnarlo ma spero che sia chiaro diciamo la struttura in classe sono un po' più ordinato sulla lavagna e anche qua posso assegnare le probabilità a un sesto un sesto un sesto su ciascuno di questi sotto rami sotto sotto alberi scusate a questo punto la probabilità di un evento complessivo si può ottenere seguendo il percorso per esempio se mi chiedo qual è la probabilità di ottenere uno e uno quindi lancio due dadi la probabilità di ottenere due volte uno basta seguire il percorso che va attraverso il primo uno e poi attraverso il secondo uno e lungo il percorso siccome gli eventi sono indipendenti moltiplico le probabilità quindi in questo caso un sesto per un sesto che fa un trentaseisimo supponiamo adesso di chiederci quali sono le probabilità di avere come somma tre che abbiamo visto con una tabella se vi ricordate in classe con l'albero devo trovare tutti i rami la cui somma faccia tre quindi chiaramente c'è il ramo uno due che ha probabilità un trentaseisimo quindi provo a sottolinearlo qua uno due questo ramo qua che ha probabilità un sesto per un sesto un trentaseisimo ma c'è anche il ramo due uno che è qua sotto anche questo ha probabilità un trentaseisimo un sesto per un sesto non ci sono altri rami che danno come somma tre se andate a vedere qualunque altro numero qualunque altro ramo voi scegliate su questo albero la somma dei risultati è sempre maggiore di tre o minore di tre nel caso del primo ramo che dava due quindi ho solo questi due rami e ho ottenuto le probabilità di ciascun ramo utilizzando il fatto che gli eventi sono indipendenti quindi moltiplicando a questo punto questi due rami sono però incompatibili cioè non può succedere che lanciando due dadi io tenga sia uno due che due uno e quindi essendo incompatibili la probabilità della loro unione quindi o questo o questo sarà la somma delle probabilità quindi nel nostro caso un trentaseisimo più un trentaseisimo che fa due trentaseisimi che poi fa un diciottesimo la probabilità di ottenere un numero tre sommando due lanci di dadi casuali da uno a sei è di un diciottesimo quindi il doppio della probabilità di ottenere due perché la probabilità di ottenere due è soltanto data da questo là e così via quindi uno può divertirsi poi a calcolare volendo con l'albero le varie probabilità delle somme dei prodotti di quello che uno vuole la cosa importante è che quando io ho costruito l'albero di probabilità quando mi muovo sui rami moltiplico e quando prendo più rami che mi portano a un risultato che mi va bene quindi un risultato di quelli di cui voglio calcolare probabilità complessiva basta sommare le probabilità di ciascun ramo e questo è un metodo molto comodo per risolvere come abbiamo visto gli esercizi bene tornando alla definizione di probabilità la seconda parte che abbiamo studiato è stata quella legata alla distribuzione binomiale anche su questo abbiamo fatto molti esercizi distribuzione binomiale se vi ricordate l'idea è abbastanza semplice supponiamo di avere un certo evento con una probabilità di successo per esempio lancio una moneta e ottengo testa la probabilità di successo per esempio in questo caso è un mezzo quindi probabilità di successo per un certo evento allora 1-P che per motivi storici chiamiamo Q sarà la probabilità di insuccesso cioè la probabilità che l'evento non avvenga nel caso della moneta per esempio queste due sono uguali che esca testa o non esca testa quindi croce sono entrambe un mezzo la somma chiaramente fa 1 per definizione ci chiediamo qual è la probabilità che su n lanci io abbia K successo quindi se faccio n lanci della moneta ma potrebbe essere n tentativi n prove quindi facciamo così su n prove più generale quindi lanci di dadi di monete di estrazioni dell'8 o quant'altro io abbia K successi allora è chiaro che questa probabilità sarà legata alla probabilità del singolo successo in particolare se voglio avere K successi siccome ogni lancio lo intendiamo indipendente dal precedente questo è importante questo funziona se c'è indipendenza da ciascun tentativo dai precedenti allora ricevamo se devo avere K successi chiaramente la probabilità di K successi è P alla K e la probabilità di n meno K successi perché se su n tentativi ho K successi vuol dire che ne ho anche n meno K in successi sarà Q alla n meno K quindi questo prodotto ci dà la probabilità ma questo prodotto non sta tenendo conto dell'ordine con cui ottengo il successo e gli insuccessi per esempio potrei chiedermi su tre intettativi voglio avere un successo e chiaramente posso avere indichiamo con S successo e I successo posso avere successo in successo in successo ma posso avere anche in successo successo scusate in successo in successo in successo successo cioè ho tre possibilità qua il successo l'unico che sto cercando può avvenire in uno qualunque dei lanci e così via allora è facile capire che qua ci sono di mezzo come abbiamo visto nel calcolo combinatorio le combinazioni n su K e infatti per completare il calcolo basta mettere qua il coefficiente binomiale n su K quindi la probabilità che è un evento che ha probabilità P piccolo di successo e Q piccolo 1 meno P di successo su n prove capiti quindi succeda K volte n su K più alla K qua alla n meno K e questa distribuzione si chiama distribuzione binomiale è alla base di molti esercizi molti problemi e molti fatti interessanti che appunto abbiamo fatto in classe in classe abbiamo anche visto per andare verso la conclusione una terza diciamo applicazione probabilità quando ho la probabilità legata ad aree o volumi cioè abbiamo visto che estendendo il discorso è molto complicato ne abbiamo solo accennato perché poi gli strumenti necessari sarebbero integrali che faremo in quinta ma abbiamo visto che se io ho una certa area che viene in qualche modo interessata dalla scelta di un punto per esempio un bersaglio che io vado a colpire quindi colpisco questo punto mi chiedo qual è la probabilità che il punto scelto sia all'interno di una sottoarea dell'area complessiva quindi se incliniamo con A questa e con A' questo sapendo che questo punto è all'interno dell'area A mi chiedo qual è la probabilità che capita all'interno dell'area A' e abbiamo visto che questa probabilità è il rapporto delle aree avevamo fatto un discorso abbastanza lungo durante una lezione per arrivare a questo risultato per ora diciamo in questo riassunto mi basta il risultato finale e quindi questo ci dà in qualche modo la possibilità di applicare la teoria delle probabilità anche a questioni legate appunto alla scelta su una distribuzione continua perché questo è un insieme di punti continui per esempio del piano o nel caso di volumi era il rapporto tra i volumi volume da come dire più piccolo fratto di volume complessivo e la cosa si poteva estendere ma insomma spero che vi ricordiate il concetto era abbastanza semplice tutto sommato e questo portava dietro anche tutta una serie di strani paradossi per cui la probabilità di colpire un singolo punto siccome l'area di un singolo punto è zero la probabilità di colpire un singolo punto è zero ma d'altra parte da qualche parte il punto cadrà e questo abbiamo detto sarà qualcosa che discuteremo l'anno prossimo quando faremo dei cegni di teoria della misura durante diciamo il calcolo differenziale quindi quando introdurremo il concetto di integrale è una cosa che però per il momento sovrassediamo ma siccome possono capitare esercizi legati appunto alle probabilità sulle aree è giusto anche ricordare questa rappresentazione bene più o meno questi sono tutti gli aspetti importanti io ho aggiunto in un video che ho registrato prima di questo ma che a questo punto in sequenza dovreste vedere dopo legato al penultimo argomento della teoria di probabilità che sono le probabilità condizionate e il teorema o formula di bias quindi il mio consiglio è di guardarvi il video precedente sul calcolo combinatorio poi questo video e poi il terzo sulle probabilità condizionate del teorema di bias e tutto questo ovviamente come ho detto all'inizio non esaurisce l'argomento e non rappresenta tutto quello che abbiamo visto in classe però se in qualche modo dovessi riassumere in 20 minuti i concetti salienti questi più o meno sono quelli che vi servono per risolvere eventuali problemi rimango a disposizione per domande curiosità o dubbi e direi che ci possiamo sentire al prossimo video cercatevi di star bene e state tutti e tutte sereni e serene vedrete che ci rivedremo presto arrivederci ciao